La Corte dell'Appello dell'Aquila, presieduta dal giudice Luigi Catelli, ha confermato l'assoluzione messa in primo grado dal Tribunale di Pescara l'11 febbraio 2013 dell'ex sindaco del capoluogo adriatico Luciano D'Alfonso, oggi presidente della Regione Abruzzo e di tutti gli altri 17 imputati nell'ambito dell'inchiesta denominata Housework su presunte tangenti negli appalti pubblici al Comune Adriatico che il 15 dicembre del 2008 portò all'arresto di D'Alfonso del suo ex braccio destro Guido Dezio e dell'imprenditore Massimo De Cesaris. La Corte ha assolto tutti gli imputati con il secondo comma dell'articolo 530 del codice di procedura penale da tutti i reati contestati, riqualificando tra l'altro il reato contestato al capo B, cioè tentata concussione, in quello di induzione in debita a dare o promettere utilità, reato per il quale vi è stata comunque l'assoluzione. La sentenza emessa oggi dalla Corte d'Appello riguarda ad Alfonso coinvolto in qualità di ex sindaco di Pescara e gli imprenditori Carlo Alfonso Toto, Massimo De Cesaris, Angelo De Cesaris, Pierpaolo Pescara, Fabrizio Paolini, Rosario Cardinale, Giacomo Costantini, Nicola Di Mascio, Pietro Colanzi, Alberto Larocca, Giampiero Leombroni, Marco Mariani, Francesco Ferragina, Antonio Dandolo, Vincenzo Cirone. Il procuratore generale Ettore Picardi aveva chiesto l'assoluzione per tutti gli imputati relativamente alla maggior parte dei capi di imputazione oggetto del ricorso. La prescrizione per sei capi di imputazione è solo per Dezio una condanna di due anni e sei mesi relativamente però al reato contestato al capo B e cioè tentata concussione. In primo grado il processo si concluse con l'assoluzione di tutti gli imputati accusati a vario titolo di reati che andavano dall'associazione per delinquere alla corruzione, alla concussione, alla tentata concussione, all'abuso, al peculato, alla truffa, al falso, all'appropriazione in debita. Ringrazio la magistratura per aver sottoposto a scrupolosa validazione approvato il mio operato da sindaco di Pescara. Resta il rammarico, ha detto a caldo il presidente D'Alfonso, per l'interruzione di un percorso amministrativo riconosciuto a tutti i livelli e che stava dando i frutti preziosi per la città.